Ma nella nostra vita spirituale abbiamo sempre il pericolo di scivolare sul pagamento, sempre. Anche parlando col Signore, come se noi volessimo dare una tangente al Signore. No, la cosa non va lì, non va per quella strada. No, Signore, se tu mi fai questo, io ti darò questo. No, io faccio questa promessa, ma questo mi allarga il cuore per ricevere quello che è lì, gratuito per noi. Questo rapporto di gratuità con Dio è quello che ci aiuterà poi a averlo con gli altri. Sia nella testimonianza cristiana, sia nel servizio cristiano, sia nella vita pastorale di coloro che sono pastori del popolo di Dio. Strada facendo, la vita cristiana è andare. Predicate, servite, servire di, non servirsi di, servite. E date gratis quello che gratis avete ricevuto. Grazie. 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 Grazie.